Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Tu inni dai un ch horizonte, grazie! Voi sia, grazie per le Sperti, grazie! Grazie! Sperti, grazie! John Marci A Poggi Step Step Uno Soro Core Soro 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 Per E questo è tutto inizio? Ma è già inizio? A questo è inizio! Ma è inizio! E' inizio! Schi! Vincere! Vincere le droppi. Noi. Vincere. Vincere. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti